Ariete, oggi potrete raccogliere i frutti del grande lavoro compiuto di recente. I vostri meriti saranno universalmente riconosciuti. Toro, non disponete ancora di tutte le informazioni che vi servono per valutare gli eventi in arrivo. Nel frattempo fareste meglio a non prendere nessuna decisione. Gemelli, vorreste che tutto avesse un senso e una spiegazione, ma dovrete fare i conti col fatto che certe cose sono destinate a rimanere inspiegabili. Cancro, preferireste poter fare le cose senza starci troppo a pensare oggi, ma ci sono alcune questioni che richiedono riflessioni ed approfondimenti. Leone, riuscirete a tenere qualcuno lontano dai pericoli, ma nel farlo potreste finire per esporre voi stessi ad un rischio che avete cercato con ogni mezzo di evitare. Vergine, le regole del passato non si applicano alle situazioni in cui vi trovate, ci sono troppe variabili sconosciute che vi costringeranno a decidere volta per volta e ad improvvisare continuamente. Bilancia, riuscirete a procedere in modo piuttosto spedito, ma sappiate che presto o tardi vi troverete alle prese con ostacoli che siete stati proprio voi a creare. Scorpione, riuscirete a combinare idealismo e senso pratico con grande efficacia oggi, saranno in molti a voler seguire la vostra guida. Sagittario, questo non è il momento di voltare le spalle al passato, però potreste basarvi sulla tradizione aggiungendovi qualche elemento nuovo e personale. Capricorno, potreste restare intrappolati in un conflitto che non siete stati voi ad avviare, forse però riuscirete a porvi fine in modo definitivo. Acquario, gli altri potrebbero prendere come un affronto personale la vostra richiesta di stare per conto vostro, non sarà facile fargli capire che ogni tanto anche voi avete bisogno di solitudine. Pesci, potreste essere molto fortunati oggi, voi però avrete il merito di non lasciarvi sfuggire neppure la più piccola opportunità.